Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Scinea e là si stanziarono, si dissero all'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero, venite, costruiamoci una città, una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, ecco, essi sono un suo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questo fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Il nome stesso di questa città, Babel, significa confusione. Babel è appunto la parola oramaica per confusione. Ma quello che notiamo qui, la prima cosa che notiamo, è che avevano paura di essere dispersi. Si preoccupavano di questo. Volevano costruire questa città, questa torre, non per arrivare fino al cielo, no, per arrivare fino a Dio, ma la loro paura era quella di essere dispersi sulla faccia della terra. Ed è strano, perché avevano questa paura? Intanto andiamo a vedere chi sono questi, questi che costruiscono Babel, perché conosciamo pochi versetti prima, appunto, nel capitolo 8, 9, la Bibbia ci racconta di Noè e del fatto appunto che la terra fu distrutta da questa alluvione e si salvò soltanto una famiglia, la famiglia appunto di Noè, che aveva tre figli. Questi figli sono Sam, Cam e Yapheth. E da questi tre figli, poi, è iniziato a ripopolarsi la terra. Infatti, anche il DNA, le ultime ricerche del DNA, dicono che i tre gruppi che oggi popolano la terra discendono appunto da tre tipi di DNA, ci sono solo tre tipi, tre ceppi di DNA. E le ricerche dicono, le tradizioni ci dicono che Yapheth, appunto, popolò Turchia, Grecia e poi l'Europa. Noi qui, in Occidente, siamo discendenti di Yapheth. Sem, poi i discendenti di Sem sono estraele, e gli arabi. Poi è un abbrano, è un discendente di Sem. E c'è questo Cam, il figlio maledetto. Perché maledetto? Perché Noè mette una maledizione su questo figlio. Perché? Perché non ha avuto rispetto per il padre. A Noè ci sembrerà una cosa un po' strana, cioè il fatto che Noè, dopo appunto che è uscito dall'arca, pianta una vigna, questa vigna cresce, fa del vino e si prende una bella cicca. E quando è ubriaco nella sua tenda, no, si spoglia, si vede, no, cade, si addormenta. Questo figlio Cam entra, vede Noè nudo, vede il padre nudo, esce dalla tenda e va a raccontarlo ai suoi fratelli, prendendo in giro il figlio. Gli altri due fratelli, che invece sono rispettosi nel timore del padre, prendono un lenzuolo, camminano per dietro e coprono la nudità del padre. Quando Noè si sveglia, viene a sapere questa storia e mette una maledizione su Cam. Perché, vedete, il padre, il padre naturale, è sempre comunque un'immagine di Dio, rappresenta Dio, quindi la mancanza di rispetto di questo Cam verso Noè, verso suo padre, mostrava una mancanza di timore e di rispetto verso Dio. Perché il padre naturale, Dio ce l'ha dato, i nostri genitori naturali, Dio ce li ha dati perché rappresentino Dio per noi, perché ci facciano conoscere Dio. Dio ha creato Adamo e Eva, si è rivelato Adamo e Eva, Adamo e Eva dovevano poi, no? Passare alla discendenza, l'immagine di Dio con cui erano stati creati. E i figli avrebbero conosciuto Dio attraverso l'immagine dei genitori. Purtroppo il peccato ha cambiato questa immagine, l'ha pervertita e quindi poi Caino, Abele, e tutto il resto di queste discendenze. E questo seme di ribellione rimane, purtroppo, anche dopo Noè. È il seme di Adamo che continua, purtroppo, e continua qui nella discendenza di Cam. Allora questo Cam comincia ad avere dei figli. E se leggiamo in Genesi 10, vediamo che ci racconta dal versetto 8 questa discendenza di Cam. Il figlio di Cam fu appunto Cus, e dice che Cus generò Nimrod, che cominciò ad essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore, perché si dice come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel. E poi, appunto, no? Dice altre città che costruì. Ma la prima città che costruì fu Babel. Quindi il costruttore di questa torre, di cui abbiamo letto nel capitolo 11, è Nimrod, un discendente appunto di Cam. Quindi uno che porta, siamo la quarta generazione dopo Noè. Noè, Cam, poi c'era un altro, vediamo se l'ho messo, Cus, e Cus genera appunto Nimrod. Quarta discendenza dopo Noè. Vediamo che questo Nimrod si vuole innalzare e si vuole ribellare a Dio. Perché vediamo che si vuole ribellare a Dio? Perché questo Nimrod dice appunto non dobbiamo disperderci su tutta la terra. Questo è esattamente l'opposto di quello che Dio aveva detto a Noè. Ma non solo a Noè, quello che Dio aveva detto ad Adamo, quello che Dio poi dice ad Abramo è quello che Gesù poi dice a noi. Cioè di andare in tutta la terra. Dio vuole che ci disperdiamo. Cioè che popoliamo tutta la terra, ma andando a popolare tutta la terra che ci siano scambi, che ci sia un interagire fra i popoli e le persone. Questo è il progetto di Dio. Quando ha creato Adamo gli ha detto ad Adamo vai e domina tutta la terra che io ti ho dato, il progetto di Dio era che queste generazioni che sarebbero venute fuori appunto da Adamo ed Eva avrebbero popolato la terra e ci sarebbero stati scambi, interscambi tra di loro. Perché? Perché Dio crea ogni essere umano con una specifica. Crea ogni essere umano, no? Con un'abilità, una capacità. Ed è il nostro stare poi insieme e scambiarci le nostre conoscenze, le nostre abilità che l'umanità cresce. Questo è quello che ci dicono tutte le canzoni, no? Le canzoni che parlano di pace, di stare insieme. C'è quella famosa canzone di John Lennon, no? Ah, se non ci fosse religione, se non ci fosse Dio, se c'è Massimo, semplicemente così come siamo, senza barriere, senza niente, no? Tutti desiderano questo mondo, no? Meraviglioso, dove non ci sono confini, non ci sono guerre, non ci sono barriere. Quello che le religioni, no? Ci vogliono proporre. Quello che i politici, no? Propongono sempre, questa grande pace, questo benessere di tutti quanti, creato con gli scambi, no? E sembra che l'uomo, in tutte le epoche, in tutti i tempi, abbia questo desiderio, appunto, di interscambio, no? Di stare insieme, no? Di non avere barriere. E invece poi, la realtà della storia sono le guerre, no? Sono i confini, sono i controlli di una persona, un gruppo di persone, sugli altri. Questo è quello che la storia ci dice come è male questo. Se guardiamo in Genesi 8, al versetto 15, esempio, vediamo quello che Dio disse a Noè per lui e per i suoi discendenti. E Noè sicuramente gliel'ha detto ai suoi figli, che l'hanno detto ai loro figli e ai loro figli, anzi, Noè era ancora in vita, ha vissuto molto, anche dopo il diluvio. Quindi lo raccontava ai suoi nipotini e gli diceva queste parole che lui aveva ricevuto da Dio. In Genesi 8, versetto 15, Dio parlò ancora a Noè dicendo esci dall'alca, tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te di ogni specie, volatili, bestiame, tutti i reti che strisciano sulla terra. Falli uscire con te perché possono disseminarsi sulla terra, siano fecondi e moltiplichi su di estero, vedi, possono disseminarsi sulla terra. Guardate, il comando di Dio che si dissemina, cioè che si spagnano. Dio, cioè Noè lo insegna ai figli che lo insegnano ai figli ma quando arriviamo a Nimrod, Nimrod dice no, non ci dobbiamo disseminare sulla terra, dobbiamo rimanere uniti. Vedete qual è il problema della torre di Babele? Il problema della torre di Babele non è che volevano andare in cielo, il problema della torre di Babele è che erano ribelli alla parola di Dio e il problema dell'uomo è sempre quello. La radice del problema dell'uomo è la ribellione alla parola di Dio. Dio dice una cosa e noi dobbiamo fare l'opposto. Perché? Perché pensiamo di saperne di più o di sapere meglio. Vediamo che Nimrod vuole fare l'opposto e quindi dice a questo popolo che sta con lui questa porzione non erano tutti gli abitanti della terra perché intanto gli altri fratelli erano andati da altre parti avevano già iniziato a disperdersi ma Nimrod guida un certo parte della popolazione della terra e dice fermo un momento invece di continuare ad andare a disperderci rimaniamo qua e costruiamo questa città di mattoni perché si costruisce molto più veloce e facciamo un templio altissimo bello perché tutti lo devono vedere e io a Nimrod mi metterò sopra questo tempio perché sono il vostro sacerdote e fra virgolette il vostro dittatore vedete Nimrod è stato il primo dei dittatori tutti i dittatori hanno seguito questo esempio di questo Nimrod perché vedete cosa vuol fare un dittatore cosa fa la prima cosa quando un dittatore va al potere prima cosa tolgono oggi al tempo di oggi tolgono subito internet televisione e ogni contatto con le altre nazioni fermano i confini non arrivano e partono più aerei se non quelli che vogliono loro la popolazione non può uscire e nessuno può entrare se non lo speciale permesso cioè chiudono la popolazione e dicono dovete rimanere qua perché perché così il dittatore può dire alle persone quello che lui vuole e questi ci devono credere perché se non ci credono fai una brutta fine questo ha fatto Nimrod ha detto a questo popolo ok fermi tutti basta disperdersi adesso dovete fare quello che dico io e ha iniziato a fargli fare mattoni quindi vediamo che inizia da Nimrod secondo la tradizione è anche il padre dell'idolatria il Nimrod che ha iniziato con Serramide e sua moglie ad adorare il sole e la luna perché? perché è ispirato da Satana Satana deve fare deve darti qualcos'altro perché tu non vada a Dio come quando vuoi che il bambino lo vedi che sta vicino magari alla presa elettrica sta per mettere le dita nella corrente e gli dici vieni qua c'è una caramella per te allora quello molla subito la presa e viene a prendersi la caramella lo prendi con qualcos'altro Satana fa così ti dà altre cose perché tu non vada alla verità allora ecco l'adorazione del sole perché? perché il sole dà luce e dà vita quello che è Dio la purezza della luna quello che è Dio queste cose hanno iniziato a vederle nella creazione Romani dice hanno preferito adorare la creatura invece del creatore e lì è iniziato proprio da Nimrod con questo templio e questa città e lì è iniziato ad essere il dittatore cioè uno strumento nelle mani di Satana perché tutti i dittatori sono strumenti nelle mani di Satana e noi sentiamo che negli ultimi tempi arriverà un altro Nimrod e questo sarà il più pericoloso di tutti perché? perché riuscirà dalla sua torre a governare tutto il mondo o quello che nella Bibbia viene chiamata questa figura l'anticristo e questo dominatore del mondo che all'inizio prometterà pace come tutti i dittatori Benito Mussolini ha promesso pace e ha fatto tante cose belle per la nazione fino a quando poi siamo entrati in guerra Hitler uguale all'inizio perché tutti l'hanno esaltato e tutta la Germania si è unita a noi perché ha fatto delle belle promesse una Germania che era messa a terra economicamente che improvvisamente è diventata una potenza mondiale quindi arriva quest'uomo che tutti aspettano che tutti vogliono quest'uomo che porta pace che porta benessere che sistema l'economia che fa fuori questi politici corrotti e che mette le cose apposte addirittura in tutto il mondo è arrivato finalmente tutti lo esalteranno questo è quello che la Bibbia ci dice ma attenzione perché è un altro libro un altro libro che nel cuore ha la ribellione la ribellione l'uomo ma cosa ci dice invece la Bibbia cosa ci dice Gesù a noi in Matteo capitolo 28 perché se Satana è il dittatore dei dittatori Gesù è il re dei re e lui è il nostro re e noi non saremo mai sotto una dittatura perché noi abbiamo un re un re che ci rende veramente liberi e Matteo 28 versetto 18 Gesù è risuscitato dai morti Gesù adesso si è rivelato perché lui è veramente il Cristo il salvatore del mondo ed ha un messaggio le ultime parole ai suoi discepoli prima di salire in cielo dove è andato a intercedere per noi fino al giorno in cui tornerà le ultime parole ai suoi discepoli sono queste e Gesù avvicinato si parla loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra andate dunque a fare i miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutte queste cose che vi ho comandato ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente vedete non ci ha detto di costruire tempi non ci ha detto di raggrupparci ci ha detto andate andate a portare questo messaggio meraviglioso che c'è una vera libertà che c'è la vita eterna che c'è il modo per poter tornare a Dio non attraverso una torre di mattoni non attraverso le nostre opere perché i mattoni rappresentano le nostre opere non attraverso le opere religiose ma attraverso la fede infatti per comprendere questo andiamo a vedere perché costruirono il mattone perché vedete dice tornando lì in Genesi che iniziarono da quel momento divenne l'idea geniale di costruire il mattone invece di costruire con le pietre iniziarono a fare dei mattoni iniziarono a costruire ma cosa rappresenta il mattone il mattone rappresenta le nostre opere perché in natura non lo trova il mattone il mattone è sempre l'opera dell'uomo e rappresenta anche la schiavitù vi ricordate il popolo di Dio in Egitto che cosa gli fece fare il paraone mattoni per costruire le città del faraone vedete torna sempre lì simboli di schiavitù Nimrod aveva reso schiavo questo popolo per quello Dio è sceso e ha confuso le loro lingue non perché ce l'avesse con loro perché avevano capito che erano diventati schiavi avevano capito che questo Nimrod gli stava rendendo questo dittatore gli stava rendendo schiavi allora per liberare questo popolo è sceso a confondere le loro lingue in maniera che non capendosi più fra di loro si sono poi dispersi vedete Dio anche quando sembra che agisce in maniera strana agisce sempre per il bene dell'uomo sempre anche qua li disperde perché la smettessero di costruire il mattone ma purtroppo l'uomo non capisce le elezioni questo è il nostro problema e continuiamo ancora oggi a fare mattoni ed è ancora oggi il simbolo di schiavitù vi faccio vedere alcune foto quelli qua sono bambini in Afghanistan in Pakistan e io quando sono andato in Pakistan li ho visti questi bambini ho visto dove fanno questi mattoni famete questi bambini guadagnano meno di un centesimo a mattoni devono lavorare dalla mattina fino alla sera tardi per guadagnarsi abbastanza per un pasto e tutto quello che guadagnano in una giornata gli serve per poter andare a comprare una cosa da mangiare per quel giorno se non lavorano non mangiano queste schiavitù ce ne sono migliaia e migliaia di questi bambini sapete che in Pakistan la maggior parte di questi bambini sono cristiani perché? perché i cristiani devono pagare una tassa speciale nei paesi musulmani non solamente non hanno diritto all'istruzione ma questi bambini non possono andare a scuola infatti quel ministero in cui appunto avevo lavorato in Pakistan vanno lì proprio dove costruiscono i mattoni e gli danno l'istruzione a questi bambini sul posto dopo che hanno finito di lavorare ma devono fare attenzione perché ovviamente sono perseguitati e vediamo appunto che questi bambini cristiani sono letteralmente schiavi incominciano a 5 anni a 50 anni staranno facendo esattamente la stessa cosa non possono uscire di lì perché non hanno istruzione non hanno nessun altro lavoro e nient'altro da fare tutta la loro vita sarà fare mattoni questa è la schiavitù e c'è ancora oggi e via sempre con i mattoni vedete che le cose non cambiano guardate un'altra diapositiva per far vedere che l'uomo non cambia va bene è ancora oggi questo è appunto il aur la città da dove è venuto Abramo hanno appunto c'è ancora hanno scavato è venuto fuori questo zigurat si chiama ed è un antico tempio che al suo tempo era non so se lo vedete era come lo vediamo qua in questa ricostruzione disegno un tempio enorme appunto questa scalinata e sopra c'era appunto il tempio ed è rimasta la base quella che vediamo qua pensate solamente la base questa qua sotto quindi sopra c'erano altri tre piani pensate quanto grande era tutta fatta di mattoni pensate quanti schiavi hanno lavorato quanto devono aver lavorato portando i mattoni sulla schiena fino per costruire queste cose ecco perché Dio mosso con passione è sceso ha detto devo fare qualcosa per disperdermi perché questi uomini sono pazzi ma questa pazienza diciamo vabbè ma tu stai parlando di 4.000 anni fa 4.000 anni fa facevano queste cose guarda cosa fanno oggi vediamo la prossima i grattacieli più alti del mondo allora quello più alto ho avuto l'opportunità di andare sopra quando sei stato a Dubai con Nathan non mi ha portato sopra il Burj Khalifa 830 metri di altezza uno è di un lusso pazzesco entri dentro il lusso e mi dicono quando andate dentro questo luogo sotto c'è uno dei centri commerciali più grandi del mondo qui a questa altezza c'è i tre piani dell'albergo di Armani uno degli alberghi più lussuosi del mondo e tutto il resto quando tu arrivi in cima dopo questo ascensore è spettacolare tutto è spettacolare ti senti veramente capito oh no sopra al mondo no hai questa sensazione wow guarda qua no e pensi ma arriva la gente che ci vive lì c'è gente che vive in cima questo grattacielo ma chi si credono di essere Dio hanno il potere gente talmente ricca che non sanno neanche loro cosa fanno qui ho l'immagine proprio di questo grattacielo più alto ma sapete che oggi stanno costruendo un altro grattacielo sempre lì vicino a Dubai che sarà alto un chilometro vi rendete come un grattacielo alto mille metri un chilometro e come si chiamerà Kingdom Tower la torre del regno no chissà come mai perché dagli no questo chissà se non sarà proprio lì sopra che abiterà il famoso anticristo noi sappiamo però vediamo tutte queste cose una torre costruita e sapete una cosa questi grattacieli sono costruiti con la schiavitù perché la cosa appunto che Nathan mi raccontava di Dubai che gli operai che usano appunto per costruire questi grattacieli e tutto questo lusso incredibile sono tutti indiani africani per lo più e vengono pagati 50 centesimi al giorno una miseria vivono in una stanza come questa più di 50 di loro perché non possono pagare gli affitti orari di lavoro tranquilli e tanti ne muoiono e quando muoiono li prendono li mettono in una cassa e li rispelliscono a casa perché non li sipelliscono niente non li vogliono avere ma non le muoiono quando erano lì ho visto dei ragazzi a questa altezza qua appesi a un filo che pulivano i vetri erano 5-6 di loro appesi a un filo a 500-600 metri di altezza a 40 gradi immaginatevi il caldo sotto il sole con un elmento con una tuta appesa a un filo a pulire i vetri a 500-600 metri di altezza ma sono cose allucinanti questo è schiavitù è schiavitù moderno nessuno sa la gente va lì e fa le foto al lusso guarda l'uomo che cosa è capace di fare sì ma le spese di chi sappiamo di tutte le ricchezze la ricchezza dell'Europa dall'Ottocento fino a oggi è stata fatta sulla schiavitù la schiavitù degli africani la schiavitù degli asiatici e tutto il resto grande impegno dell'Inghilterra e dell'altro perché è sempre quello la ricchezza di uno significa sempre la povertà la sofferenza dell'altro però la Bibbia dice che Dio ha fatto ricco per il povero perché io credo Dio ha dato la capacità a qualcuno l'intelligenza di arricchirsi perché io vedo gente che con il minimo sforzo si arricchiscono gente invece che lavora veramente si impegna usa il cervello e così eppure cioè proprio sopravvive ma come può essere questa cosa Dio ha detto io ho fatto ricco per il povero c'è un versetto nella Bibbia che dice questo perché ma non è giusto no è giusto perché perché come diceva prima Dio andate disperdetevi su tutta la terra a uno ha dato la capacità come a Salomone di fare grandi ricchezze a un altro gli ho dato la capacità di accudire agli animali a un altro gli ho dato la capacità di inventare qualche cosa mettetevi insieme le ricchezze di uno aiuteranno l'invenzione dell'altro le cose di uno aiuteranno l'altro perché Dio è interessato appunto alle relazioni ma il dittatore Satana no è intenzionato a dividerci divide e conquista no? cioè la Roma che ha detto questo era Cesare non sbaglio divide e conquista sì e quindi vediamo che questo purtroppo è il piano di Dio ma se da una parte vediamo che l'uomo costruisce con mattoni e ricostruiamo queste grandi grattacieli con i nostri sforzi dall'altra parte vediamo in Apocalisse che c'è una città costruita da Dio che è preparata per noi vogliamo vederla insieme Apocalisse 21 dal versetto 10 guardate la differenza tra la confusione di Babene e i battoni alla schiavitù di quella zigurati e di quella città alla città che Dio ha preparato per noi Apocalisse 21 dal versetto 10 Egli li trasportò in spirito su una grande alta montagna e gli mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosa le mura erano costruite con diaspora e la città era d'oro puro simile al terzo cristallo i fondamenti delle mura della città erano d'oro e di ogni specie di pietra prezioso il primo fondamento era di Tiaspro il secondo di Zaffiro il terzo di Calcedonio il quarto di Smeraudo il quinto di Sardonico il sesto di Sardio il settimo di Crisolito l'ottavo di Berillo il nono di Topazio il decimo di Crisopazio l'undicesimo di Giacinto il dodicesimo di Ametista le dodici porte erano dodici perle e ciascuna era fatta da una perla sola la piazza della città era d'oro puro simile al cristallo trasparente nella città non vidi alcun tempio perché il Signore di Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio vedete la differenza con va bene? qui tutto è costruito con pietre con metalli e pietre preziosi che Dio ha creato e ha preparato per l'uomo perché l'uomo ne possa godere non c'è bisogno di fare un tempio perché? perché c'è Dio e noi siamo il tempio noi siamo il tempio del Spirito Santo non c'è bisogno di adorare il sole o la luna perché non ci sarà sole e luna ma la luce di Dio la gloria di Dio ci illuminerà in eterno che posto meraviglioso e noi stiamo andando lì e allora noi ci affatichiamo a costruire mattoni io sono friulano in friuli c'è una malattia molto particolare è un virus che prende proprio dal DNA tutti i friulani e si chiama mal del madone mal del madone significa male del mattone il friulano da sempre ha quello di costruire case il friulano deve costruirsi una casa per forza da quando sei piccolo te lo mettono in testa tu devi costruirsi una casa si chiama un dialetto mal del madone questo è di fare mattoni e costruire case ed è un male però non è solo dei friulani è universale quello di lavorare lavorare dobbiamo fare dobbiamo fare dobbiamo costruire chi ha la casa più bella chi ha la casa più grande chi ha il villone con 50 stanze allora io devo fare la dependance perché me ne servono 51 siamo in gara continuamente uno con l'altro per creare il grattacielo più alto dopo che avranno finito quello di un chilometro arriverà un'altra nazione a dire noi facciamo quello di un chilometro e un metro così li freghiamo tutti quanti è la natura di Nimrod ma Dio dice guardate il posto che io vi ho preparato e Abramo che veniva da Ur quindi aveva visto quei zigurati aveva visto gli schiavi lavorare per costruire quel zigurati che abbiamo visto nella foto prima questo tempio enorme invece guardate cosa dice Ebrei capitolo 11 di Abramo che è uscito da Ur dei Caldei per andare a Canan nella terra promessa Ebrei 11 versetto 9 dice lui per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera abitando intende come Isacco e Giacobbe eredi con lui della stessa promessa e versetto 10 ce lo spiega perché perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio vedete Abramo aveva visto il zigurati di Ur aveva visto questa torre fatta di mattoni e dice non mi interessa può essere bella può essere potente può essere tutto quello che volete ma a me non mi interessa quella torre io so che Dio ha costruito una città per me e per i miei discendenti e io abiterò in quella città e allora sa di essere un pellegrino in questo mondo infatti Abramo siamo pellegrini in questo mondo come tutti noi cristiani che siamo per fede figli di Abramo siamo pellegrini in questo mondo non facciamoci ricchezze su questa terra che peliscono ricchezze che si arruginiscono ricchezze che i ladri rubano Gesù ha detto fatevi ricchezze nel cielo perché là la ruggine non c'è là il ladro non c'è là le nostre ricchezze rimarranno in eterno non c'è la banca in cielo grazie a Dio non c'è baschi di sieli in cielo non ci sono queste banche possiamo mettere i nostri depositi là e sono al sicuro infatti due corinzi capitolo 5 versetto 1 Paolo scrive sappiamo infatti che questa tenda che è la nostra dimora terrena sta parlando del nostro corpo la nostra tenda è il corpo perché è la tenda del nostro spirito è il luogo in cui abbiamo da vivere qua su questa terra per un po' di tempo e dice che questa timora terrena viene disfatta quando comincia a superare i 50 anni comincia a rendertene conto no? e dice abbiamo da Dio un edificio una casa non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli ci dice hai una casa in cielo e noi dovremmo essere veramente con aspettativa vivere proprio col desiderio come aveva Paolo che dice proprio in corinzi io desidero di andare con il Signore ma devo rimanere qua il Signore ma devo rimanere qua ancora un po' di tempo perché ho delle cose da insegnare lui aveva avuto delle rivelazioni dal Signore infatti non scrive le lettere che oggi noi abbiamo nel Nuovo Testamento Paolo aveva questa missione ma lui dice non vedo l'ora di lasciare questa tenda non vedo l'ora di lasciare questo corpo per morire il morire per Paolo era guadagno perché sapeva dove andava per quello sai negli aeroporti tu vedi sempre a me piace guardare la gente negli aeroporti negli aeroporti sono posti che mi piacciono e vedi la gente una cosa che mi piace osservare e capire chi sta arrivando e chi sta partendo no? ti d'accordo? quelli che partono sorridono sono sempre più contenti sono sempre i veri più entusiasti che stanno andando con la riferie stanno andando da qualche parte bella quelli che arrivano magari ritornano appunto da una bella ferie da una vacanza da qualcosa e devono tornare alla routine di tutti i giorni non c'è magari tutto questo entusiasmo ma noi nella nostra vita dobbiamo avere sempre l'entusiasmo di quello che sta per partire di quello che sta per andare in un posto meraviglioso davanti a un posto bellissimo perché infatti è lì che stiamo andando Gesù ce l'ha promesso concludiamo con Giovanni 14 dove Gesù ci fa questa promessa meravigliosa proprio guardando alla Gerusalemme celeste a questo paradiso questo luogo meraviglioso questa città che Dio ha edificato con pietre meravigliose e non con il sudore e il lavoro dell'uomo Giovanni 14 dal versetto 1 Gesù ci dice il vostro cuore non sia turbato e non preoccupatevi delle cose di questo mondo abbiate fede in Dio la fede è sempre l'opposto del turbamento turbamento è mancanza di fede fede è mancanza di turbamento e abbiate fede anche in me nella casa del padre mio ci sono molte timore se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo cioè vi avrei detto una bugia sono io bugiardo satana il padre della menzogna ma Gesù è verità e quindi nel versetto 3 dice quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi ed è il luogo dove io vado sapete anche la via più chiaro di così non so come Gesù avrebbe voluto dirci io vado a prepararvi un luogo e se non fosse così non ve l'avrei detto non vi illuderei Gesù non è venuto nel mondo per illuderci per fare come alcuni che dicono che la nostra fede è un'illusione il cristianesimo è per quei poveracci che non hanno niente in questo mondo o per quei bambini che fanno mattoni o per quelli che non hanno niente allora sperano appunto in un domani in qualcosa quanti no? ci accusano di questo ma no la nostra fede non è della speranza di qualcosa in meglio la nostra fede è in Cristo Gesù è lui nella sua parola e siccome lui ci ha detto sì non preoccupatevi venite con me vi porterò con me sono io che vengo a prenderli o quando lasciamo questo corpo perché è il momento di andarci o perché ci sarà il rapimento come sarà sarà ma lui verrà a prenderci personalmente per portarci nella casa del padre dove avrà preparato una dimora per ogni ultimo c'è un luogo dove stare in eterno e questa è la nostra speranza questa è la fede cristiana e quindi smettiamola di guardare a Babilonia in Apocalisse c'è anche scritto uscite fuori da Babilonia uscite fuori dal sistema di questo mondo uscite fuori dal fare mattoni dall'affaticarvi a cercare di conquistarvi un posto una posizione in questo mondo uscite fuori da quel sistema e vi vede per Cristo non siate come pellegrini in questo mondo sapendo che siamo di passaggio la cosa migliore che noi possiamo lasciare le levità migliore che noi possiamo lasciare in questo mondo sono i frutti della nostra fede come quelle generazioni di cristiani prima di noi che ci hanno lasciato i frutti della loro fede come Paolo che ci ha lasciato quelle lettere in cui oggi possiamo edificare la nostra fede anche noi possiamo lasciare qualcosa per fede per le generazioni future ma noi ce ne andremo presto o tardi ce ne andremo e saremo per sempre col Signore quella è la nostra meta questo è il nostro vivere divere anything hot oh ho oh ho ho un ho ho Grazie a tutti.